Una cabina telefonica, posso chiamare il mio nipote? Wow, un robot in carne e ossa! O sei la pubblicità ambulante di qualche giocattolo? Mi prendi per il mio scintillante culo metallico? Beh, non è così scintillante. Sempre più del tuo, insaccato. Scusa, amico, vado un po' di fretta. Vediamo se fa anche le accopiate. Selezionare le modalità di morte, veloce e indolore o lenta e straziante. Chiamata a carico del destinatario! Avete selezionato lenta e straziante. Ti piace il sado, eh? Straziami le valvole! Andiamo, andiamo, sfagiolami le rotelle! A proposito, mi chiamo Bender. Aiuto, ma che succede? Adesso sei morto. Grazie per aver usato Paga e Crepa, la cabina suicidio preferita in America sin dal 2008. Non sei una cabina, sei un bidone. Oggi non avevo niente di programmato. Andiamo a sbronzarci.